Alla parafarmacia del Dottor Rodà, Corso Umberto I a Bova Marina, trovi delle offerte straordinarie. Velvet Soft di Skull a 29,90€ anziché 39,90€. Creme viso Vichy 1 più 1 in omaggio. E su tutto il resto della linea, per ogni prodotto acquistato, subito, il Duccia Schiuma Essential in omaggio. Anticellulite Rilastil 1 più 1 in omaggio. Prodotti Eucerin e Corf 50% di sconto. Creme corpo Bioniche 1 più 1 in omaggio. Integratore naturale contro il colesterolo, 1 più 1 in omaggio. Maxi Risparmio su tutta la linea Mellim, Bio Oil e tutti gli integratori delle migliori marche. Cosa aspetti? Parafarmacia del Dottor Rodà, personale farmacista abilitato alla vendita di OTC, SOP omeopatici. Specializzato nel settore estetico e dermocosmetico, mettendo al tuo servizio massima professionalità, gentilezza e cortesia. Corso Umberto I a Bova Marina, info 0965 761951. Tante idee regalo per il tuo Natale, a partire da 4,50 euro.